Ben trovati per la pagina dedicata allo sport, una pagina che si apre e non poteva essere altrimenti con il nuovo allenatore della Pistoiese, è Giovanni Lopez, tra l'altro l'ultima sua squadra allenata è la Lucchese che sarà proprio la prossima avversaria degli arancioni, riunione della Sorda. Dopo aver affirmato tempo di presentazione, primo allenamento con la Pistoiese, così è iniziata l'avventura del nuovo allenatore Giovanni Lopez. Il tecnico romano, 54 anni, molto conosciuto in Serie C, ha parlato con la stampa chiarendo quali sono le sue intenzioni con questa squadra. Lui che è navigato nella categoria e ha vissuto momenti delicati e difficili come quelli che stanno attraversando gli arancioni. Che la squadra non vada bene è il motivo per cui io sono qui. L'idea che mi sono fatto della squadra è semplicemente che è una squadra con dei giocatori che possono fare meglio di quello che hanno fatto fino adesso. Ora sarà abilità mia tirargli fuori quello che è necessario per ottenere questo lavoro. Metterò la mia esperienza a disposizione di questi ragazzi. Certo è che tutto dovranno fare loro per migliorare l'andazzo che c'è stato fino adesso. Che impressione le ha fatto la squadra in questa prima parte di stagione? Dare giudizi non mi sembra opportuno, anche perché prima di me c'era un altro collega, però è ovvio che se sono qua io è perché le cose non andavano per il verso giusto. Però ha visto delle potenzialità in questi ragazzi? Sì, ho visto che potrebbero fare qualcosa di meglio. Che pistogliese targata Lopez si dovrà vedere? Spero che sia quello che hanno contraddistinto sempre le mie squadre, quello di giocare un buon calcio e di essere aggressivi. Avrà anche qualche richiesta, visto che si avvicina a gennaio, il mercato per la società? Sì, il Presidente è stato molto chiaro, se è necessario ricorreranno sul mercato. Questo l'ha detto il Presidente poco tempo fa, l'ha detto a me, insomma, non si è nascosto dietro niente. Una carriera prima da giocatore, poi da allenatore, che lo ha visto partire dalla Cisco Roma per poi sedersi sulla panchina del Vicenza nella stagione 2013-2014 in Lega Pro. Poi la lucchese in più riprese nel campionato 2015-2016 e nell'annata 2017-2018, portando i rossoneri al quarto di finale play-off. Lo scorso anno di nuovo a Lucca, subentrato ad ottobre e poi esonerato ad aprile, a tre giornate dalla fine con la squadra penultima. E caso del destino, il suo debutto sulla panchina arancione sarà domenica prossima, al Melani, proprio contro la lucchese. La lucchese ho avuto un'esperienza strana perché sono andato tre volte, ottenendo per due volte dei grandi risultati e l'ultima volta purtroppo non è stata così. Però resta armare di non averci entrato l'obiettivo, ma abbiamo fatto comunque un buon lavoro. E in bocca al lupo quindi al nuovo tecnico della Pistui e a tutta la Pistui, se ci mancherebbe. Ora il basket però parliamo di Serie B con l'Etrusca-Sammignato. Sapete, da anni la seguiamo da vicino con la trasmissione delle partite sul canale sportivo Sport TVL. Sammignato che però domenica è stata battuta a sorpresa in casa da Firenze. Sammignato prima in classifica, oltretutto anche con un scarto abbondante. Terza partita in otto giorni è stata fatale per l'Etrusca-Sammignato, sconfitta in casa dal Pino Dragons Firenze 61-88. I biancorossi hanno interrotto la propria striscia vincente di cinque successi consecutivi, più che la fatica fisica e quella mentale ad essere stata accusata dai ragazzi di coach Marchini, che solo per pochissimi tratti sono stati capaci di esprimere quella palla a canestro che li ha fino ad ora contraddistinti e che ha permesso loro di occupare il primo posto in classifica. Una gara condizionata dall'infortunio di Edoardo Caversazio nei primi minuti, costretto ad uscire. Sicuramente il gioco dell'Etrusca ne ha risentito, limitando fortemente le rotazioni dei lunghi, i quali troppo presto si sono gravati di falli complicando ulteriormente le scelte del proprio coach. Anche Firenze ha dovuto rinunciare a strafieri per il fortunio a metà del primo quarto. Una prestazione biancorossa negativa ai ragazzi della Rocca sono apparsi letteralmente riconoscibili rispetto alle prestazioni precedenti. E se una giornata negativa al tiro, 14% da 3 punti, 53% dalla lunetta, ci può stare, quello che maggiormente colpisce sono gli 88 punti subiti. Anche a rimbalzo c'è stato il dominio ospite, ma se i 35 rimbalzi difensivi di Pino sono figli di tanti errori al tiro dell'Etrusca, i 15 offensivi contro gli 8 subiti di media dimostrano un eccessivo livello di distrazione dei locali. Primo quarto molto equilibrato, chiuso dall'Etrusca sul più 7. Nel secondo Firenze è uscita fuori, trascinata dai suoi lunghi Castelli 7 punti e Di Pizzo 4 punti, che ha ribaltato il punteggio passando dal meno 7 al più 7. A rientro dall'intervallo lungo ci si aspettava di vedere sul parcheggio un'Etrusca diversa da quella del secondo quarto, più determinata, aggressiva e invece abbiamo trovato una squadra insicura, distratta, che ha visto pian piano svanire le proprie certezze sotto i canestri dalla lunga di Firenze, che si è portata sul più 22 e ha messo in cassaforte il risultato. Nell'ultimo periodo Firenze ha dilagato, toccando il massimo vantaggio al 34esimo minuto, più 34, per poi amministrare e chiudere sul più 27. Abbiamo subito dei fattori che non dovevamo subire, però l'infortunio a Caversazio, una cosa familiare di Mastrangio, l'ha fatto sì che ce li siamo portati in campo e alla fine, alle prime difficoltà, per una volta abbiamo mollato. Sono incavolato anche perché comunque potevano essere due punti importanti, anche per il discorso della Coppa Italia, anche se non avevo mai pensato a questa cosa e non è neanche da sbandierare tanto, nel senso che noi guardiamo una partita alla volta. Però sì, abbiamo mollato, abbiamo mollato tutti e questo non mi è piaciuto, perché non c'è nessun motivo per, dico anche che è meglio perdere una partita di 27 che tante di 3 e questa che ce la ricordiamo, che ce la ricordiamo bene. E a proposito di basket, se ne parlerà sia di B, sia di Cigold, di A2 femminile e soprattutto di Serie A maschile, di Serie A2 maschile, nel settimanale tiro libero che va in onda da domani sera. Questa settimana ospite di tiro libero Luca Angella, vice e coach della Georgia Tessy Group. Luca, ben trovato qui con noi, una bella Georgia Tessy Group, una bella vittoria con Treviglio, una bella classifica. Sì, sinceramente siamo in un periodo positivo, in un periodo lungo positivo, per cui speriamo di portarlo più a lungo possibile. Domenica arriva Orzinovi, poi prima di Natale, il 22 dicembre, una partita contro Capodorlando, una partita di recupero, sarebbe importante una doppietta per poter arrivare a Natale, a passare delle belle feste. Per fare delle belle feste felici e soprattutto per dimostrare che non sottovalutiamo gli impegni di seconda fascia, così detti. Per cui è un bel test, un test divertente da affrontare. Tra l'altro Pristoi ha anche la possibilità, con questa posizione classifica, di qualificarsi per le final eight di Coppa Italia, un obiettivo importante. Assolutamente, anche perché a inizio anno non era un obiettivo dichiarato e quando arrivi a poterli toccare, gli obiettivi poi ci viene voglia di afferrarli. E per questo tuo ruolo di vice coach come lo stai vivendo? Sono molto contento, anche perché abbiamo tanto spazio, assistenti, mi colano una persona super che ti coinvolge, per cui lo staff è molto unito, come la squadra e il resto, per cui sono molto contento. Appassionati di basket, torna la nuova stagione di Tiro Libero, interviste esclusive, come sempre immagini esclusive, ospiti sempre in studio. Naturalmente parleremo di Giorgio Tesigruppa, la seconda annata in Serie A2, ma quest'anno una novità, con la Serie C Gold parleremo delle due squadre di Montecatini, Quarrata, Agliana, insomma una scorpacciata di basket, sempre e solo su TVL, mercoledì alle 18.30. E in chiusura vi lascio a un servizio che parla di calcio, ma più che altro un avvenimento legato in qualche modo al calcio, tra l'altro al calcio femminile, benvengano di queste iniziative che ci fanno conoscere il mondo del calcio femminile da un altro punto di vista. Per quanto ci riguarda è tutto, grazie per la contesa di attenzione. Una serata con il calcio femminile pistoiese e nerze di Campus di Pistoia, sport e moda, che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. Le calciatrici, dalla prima squadra alle esordienti, hanno sfilato con gli abiti casual ed eleganti della collezione moda Franco Milano. Durante la serata è stato presentato il calendario 2022. Arte e giocolieri, realizzato con le foto delle calciatrici. L'iniziativa ha scopo benefico, essendo ricavato una forma di finanziamento a favore dello sviluppo del settore giovanile del club. Grazie a tutti, grazie mille, grazie alle ragazze. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.